E noi siamo ancora a Doristano e questa volta siamo in compagnia dell'arbitro che si è cambiato adesso non è più un arbitro. Solo per partite per scopi benefici oppure per iniziative come questa destinate ai ragazzi sulla sicurezza stradale insomma quindi solo per questa cosa io ho smesso tanti anni fa di arbitrare credo che si veda anche dallo stato di forma. Comunque sicuramente è una grande giornata quella che vi sto oggi perché comunque queste partite servono anche per dare visibilità a un problema oggettivo. Certo un problema oggettivo purtroppo ogni weekend ci sono tanti morti nelle strade prevalentemente giovani morti per l'imprudenza per la velocità per l'abuso di alcol e anche per le strade per le strade in Sardegna in particolare per le strade ma direi in tutto il resto d'Italia un problema sentito un problema serio rispetto al quale è giusto sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare soprattutto i ragazzi. Un'iniziativa come quella odierna diciamo è utile speriamo sia utile ecco. Intanto mentre noi parliamo stiamo vedendo anche le immagini di questa partita che ha visto la polizia di stato super vincitrice nei confronti poi degli artisti sì ma non credo che lo scopo sia stato quello di vincere. Come non basta scherzando che uno viene qua a perdere. No beh certo non viene a perdere però comunque è stata una bella serata dove si sono incontrati tanti amici io e te per esempio non ci vedevamo da una decina d'anni e ci siamo rincontrati in questa in questa occasione e poi se vogliamo entrare nel merito vogliamo fare i seri un po' e analizzare la partita. La polizia di stato è superiore anche perché è stata superiore anche perché fra i poliziotti ci sono tanti ragazzi che hanno giocato a pallone io li conosco ne conosco tanti che hanno giocato in prima categoria in promozione in eccellenza Renato Coparoni addirittura in serie A quindi diciamo non c'era partita anche se poi gli artisti si sono ben comportati hai giocato bene tu. Bugiardissimo. Cristian Cocco dai. No Cristian è stato bravo devo dire. Bravo si vede che comunque aveva qualche dotte. Ecco qualche dotte. Lo preferisco come artista. Assolutamente però abbiamo anche come hai detto durante la partita ci siamo fatti anche una chiacchierata poi in riferimento all'andamento di questo grande Cagliari che quest'anno devo dire ci sta dando grandi soddisfazioni abbiamo detto chissà che riesca ad arrivare alla Coppa UEFA io ci credo sai. Sì ma anche io ci credo perché comunque secondo me adesso al di là della posizione della posizione in classifica che in questo momento dice Roma qualificata io credo però che il Cagliari da un punto di vista psicologico sia avvantaggiato anche perché la Roma ha allestito una squadra per puntare a grandi obiettivi. Secondo me la qualificazione UEFA in Europa per la Coppa UEFA che l'anno prossimo non si chiamerà Coppa UEFA è addirittura riduttiva rispetto all'organico e a quanto hanno speso al Monte ingaggi per esempio per il Cagliari invece sarebbe un grandissimo risultato ma il Cagliari ormai gioca bene da un anno e mezzo a questa parte il fatto che abbia vinto nettamente a Roma contro la Lazio 4 a 1 a Torino contro la Juventus e molte partite in casa anche affrontando le biga non ha demeritato anche quando ha perso significa che questa squadra è ben amalgamata ben organizzata io credo che il merito principale sia dell'allenatore che è vero che ha ereditato diciamo una formazione solida da Ballardini ma è anche vero che è riuscito diciamo a interpretare il suo ruolo senza snaturare la squadra quindi grande merito all'allenatore grande merito al presidente che strano ma vero ha confermato tutti l'anno scorso e il risultato di questa stagione gli stanno ragione